Insieme si vince con Zucchini Sindaco, sostiene la candidatura di Andrea Zucchini. Immola deve ripartire dai giovani, con l'esperienza degli anziani e quindi con l'esperienza delle persone che hanno lavorato nella nostra città. Bisogna rilanciare in maniera massiccia, in maniera forte, concreta, il centro storico e rivalutare il nostro autodromo, dove non dobbiamo fare solamente eventi motoristici, ma riportare anche i grandi concerti. Grazie.